No, grazie davvero di cuore ragazzi e grazie anche a tutti gli amici di Castelfort, grazie soprattutto per l'ospitalità che ci avete dato, va beh adesso io smetto di parlare perché mi serve una bandiera, nessuno portava una bandiera, qualcuno ce l'ha la bandiera, senza bandiera, c'è qualcuno che ho fatto in tempo però, vedi quante, vedi, vabbè a tutti i disoccupati italiani e a tutti quelli che c'hanno il mal di stomaco a tutti quelli che c'hanno la gastrite se potessi avere 2500 euro al mese, sarei un uomo più cortese perché non fa delle più spese, no, sono un regalo, insomma, nezzo per me e tutto quello che ti posso dare amore è soltanto un antistomaco e gastrite soltanto un antistomaco e gastrite soltanto un antistomaco e gastrite scusa se ora premo il ricordo che ti amo, pensavo che era insieme a te voglio amare e odiare qualcuno da subire, scegliere e desistere scusa se ora premo il ricordo che ti amo, pensavo che era insieme a te voglio un avvenire qualcuno da subire, scegliere e desistere mamma mia voglio essere invisibile per tutto il tempo che mi parla io che saprei organizzare sarei una spia del vinilale sì, quando mi mancano un pettino gli anni ottante la DC non è patente di una protesta ma uno scopo chi mi chiama di testa e sofferti gastrite e tu non sopporto un antistomaco e gastrite soltanto un antistomaco e gastrite scusa se ora premo il ricordo che ti amo, pensavo che era insieme a te voglio amare e odiare qualcuno da subire, scegliere e desistere scusa se ora premo il ricordo che ti amo, pensavo che era insieme a te voglio un avvenire qualcuno da subire, scegliere e desistere io amo io amo popolo io amo che mi hanno chiesto in vivo e il corso che non hanno chiesto in vivo ma Grazie!